Grazie a tutti si arrivano ragazzi abbiamo luci che lampeggiano senza motivo urla di donne e bambini durante la notte fantasmi raccapriccianti che si aggirano per i corridoi quadri che cambiano espressione sono riuscito a trovare una spiegazione razionale per certi fenomeni regola numero uno mai svegliare i morti ghostbusters the last halloween halloween 2024